Cari quaddisti, benvenuti in squadra corse quaddisti.it ed eccoci a una piccola dimostrazione di come ricaricare una batteria a litio Allora, batterie normali, diciamo che vanno in circa 6-8 ore di carica, batteria a litio praticamente 8 minuti da zero a carica Una cosa spaventosa, attenzione però perché i caricabatterie delle batterie a litio sono caricabatterie abbastanza potenti E hanno un assorbamento abbastanza importante, quindi vediamo di collegarle su un impianto serio, non la troiata, la spinettina senza massa E hanno ovviamente sempre un asciuco di portata e comunque sono caricabatterie che pestano abbastanza Adesso l'abbiamo caricata, nella realtà è impiegato 7 minuti, 7 minuti da ricaricata Adesso andiamo a verificare la carica con una precarica Praticamente riattiviamo il caricabatterie della batteria a litio Allora, ecco lo vediamo, sempre dell'Alliant Questo è un caricabatterie che l'Alliant dà per ricaricare le proprie batterie È un caricabatterie abbastanza costoso ma sinceramente non è necessario che l'utente ne sia fornito Il caricabatteria della moto è in grado di ricaricare perfettamente la batteria a litio Mentre il caricabatterie per le batterie al piombo non ha abbastanza voltaggio per caricare una batteria a litio Quindi è inutile caricare un caricabatterie e una batteria al piombo Anzi, andrebbe in scarica la batteria, cioè fate solo dei danni Per ricaricarla fuori giù dal mezzo ci vuole il caricabatteria È comunque una cosa inutile perché il generatore del mezzo, quando il mezzo va, è in grado di ricaricare perfettamente la batteria a litio Senza il minimo problema Allora signori Vediamo Caricabatteria dell'Alliant È presente un pulsante on off al posteriore Una grossa ventola di raffreddamento Qui abbiamo le istruzioni Allora È fermo And vuol dire che ha completato il ciclo di ricarica in 7 minuti Adesso rischiacciamo il pulsantino Ve lo faccio vedere meglio Eccolo lì Lo schiacciamo E partiamo Lui riparte Ci fornirà come prima indicazione Ecco, praticamente la batteria è carica Quindi lui non riparte Comunque Ok Fate conto che sia ripartita La batteria è carica Per cui non riesce a ripartire Comunque come prima indicazione Ci fornisce il voltaggio Della batteria 14 volte 40 La batteria è 14 e 30 Questa è appena stata caricata Quindi dà 14 volte 40 Poi Al primo clic Ci dà La corrente di carica istantanea Che è uno 0,4 Fate conto Che Quando carica la batteria E questo piccolo carica batteria Riesce a buttare Un 8 ampere pieni alla batteria Se buttate 8-10 ampere pieni A una batteria al piombo Anche da 100 watt La batteria al piombo Brucia Quindi è un caricabatteria molto potente In grado di 7 minuti Di caricare la batteria Poi secondo clic Andiamo alla percentuale di ricarica Vediamo che la batteria Secondo lui è carica Al 97,7% Che è la carica massima Che il caricatore riesce a dare alla batteria Poi Lampeggia la H Perché Per lui La batteria è carica E dà l'informazione Che questa batteria È stata caricata Nell'ultimo ciclo Per 7 minuti e 30 secondi 7 minuti E 3 decimi Di parte di minuto Quindi Neanche 7 minuti e mezzo Questo è il tempo trascorso Dall'inizio della carica Ma vi ricordo che Quando abbiamo cliccato il pulsante La carica non è partita Ha fatto un ciclo di ricarica E praticamente ha fatto Un ciclo di ricarica Per un solo minuto Poi Il 0.3 E il tempo di Praticamente in 3 minuti Dovrebbe È il tempo mancante La carica della batteria Molto utile Ma in questi 7 minuti Probabilmente Se carichiamo una batteria Molto più potente È una cosa utile Ma fate conto che In 7 minuti È abbastanza ridicolo E questo è il ciclo di precarica 0.5 Relativo Quando poi Tutto finisce Si accende la luce verde Quindi abbiamo Il primo led rosso Che ci dà Un'indicazione Del funzionamento Del caricabatterie Cioè in on E il led verde Che in caso di carica Diventa giallo Adesso proviamo a spegnerlo E riaccenderlo Vediamo se riusciamo ad ingannarlo E costringerlo A un piccolo ciclo di ricarica Che dovrebbe Mostrarvi Niente Non c'è verso La batteria è carica 14.40 Non si aggancia neanche 14.3 È il massimo della batteria Appena caricata La spinge fino a 14.4 E la batteria resta fredda Signore In 7 minuti Ricaricare completamente una batteria Con una batteria Che resta fredda Vuol dire che il tutto Funziona veramente bene Se lo fate con una piombo In 3 ore La batteria Ci potete friggere un uovo Litio 7 minuti Preciso Cioè veramente freddo Spettacolare Signore di Alfera Dalla squadra Corsi e quaddisti.it Eccovi Un esempio di Come gestire E manutenzionare Una batteria a litio Non ce n'è Assolutamente bisogno Comunque nel caso Decideste Di farvi un regalo Uno sfizio Carica batteria Sempre dell'Alliant Per ricarico Delle batterie litio Il tutto è completamente Automatico Cioè carica batteria Legge la batteria Determina la tensione Determina il lamperaggio Determina il voltaggio Determina il tempo E determina L'amperaggio Di ricarica Secondo dello stato Della batteria Che va sempre A scemare Fino a 0 Cioè fino a 0,4 A O 0,3 A Che è una corrente Di mantenimento Della carica E secondo le nostre Le nostre prove È arrivato a derogare Fino a 8,4 A Di botta La batteria Che sono veramente Tanti Signori dal ferro Da quaddisti.it Un saluto Batteria a litio Ricarica batteria a litio Ricarica batteria a litio